Il video adesso, visto che è tra l'intramezzo del primo e del secondo set tra Berrettini e team, vinto tra l'altro da Matteo Berrettini Comincia la Coppa del Mondo di Ski, comincia con la classica gara Sölden in Austria Comincia subito con i fuochi d'artificio perché con il gigante femminile probabilmente emerge, sboccia il futuro talento, fenomeno del sci alpino femminile E questo si chiama Alice Robinson, il folletto neozelandese, primo dicembre 2001, si impone, vince la sua prima gara in Coppa del Mondo Ed è anche la prima della stagione, dopo che l'anno scorso alle finali di Soldeu ci aveva comunque fatto vedere che ci sapeva fare con un secondo posto Ma mai e poi mai ci avremmo immaginato che alla prima gara della stagione andasse a spodestare in rimonta sua maestà niente poco di meno che Michaela Schifrin Alice Robinson vince, vince per 6 centesimi sulla statunitense realizzando una seconda match ai limiti della perfezione Semplicemente straordinaria, straordinaria, la neozelandese che insieme probabilmente a Petra Vlova quest'anno potrebbero essere davvero la cliente più scomoda in generale per Michaela Schifrin Perché al 90% si aggiudicherà la Coppa del Mondo Generale Però insomma tra slalom gigante, tra la Vlova e tra Alice Robinson qualche patema, qualche pizzicore, qualche fastidio Ecco Michaela Schifrin allora quest'anno lo potrebbe affrontare Poi abbiamo detto tutti gli anni, in realtà mai più di tanto Michaela Schifrin ha diciamo così abdicato diverse volte alle sue avversarie Anzi tante volte insomma si è imposta anche di prepotenza, potrebbe essere che ancora la condizione deve venire per la statunitense e ci mancherebbe altro Altrimenti non saremmo qua il 26 d'ottobre, è chiaro che la condizione deve ancora venire Però fatto sta insomma arrivano le prime risposte, le prime risposte sono straconfortanti per la Robinson Sono anche confortanti per Tessa Warley che comunque ormai da anni padroneggia, arriva sempre nelle prime posizioni nel gigante Lei insomma lo sappiamo, è un pochino una grande veterana, anche specialista di questa specialità E continua comunque ad ottenere risultati di spessore la francese Mentre la prima delle italiane è Federica Brignone, Federica Brignone che è quinta Peccato perché era terza dopo la prima manche, poteva far qualcosa di meglio forse la Brignone nella seconda manche Ma insomma tra la Oltman, la classe 95 norvisese che è arrivata a quarta e la Warley evidentemente ne avevano di più oggi Comunque arriva subito un buon quinto posto, per la Brignone vedremo insomma come andrà un po' a svilupparsi questa stagione Chi delude invece ancora una volta Marta Bassino che era un po' emersa due anni fa come quella che ci poteva portare in alto nel gigante Nel gigante invece poi si è un po' persa l'atleta azzurra che si è un po' persa per strada evidentemente Non riesce, non sta riuscendo a mantenere come previsto le promesse che erano riposte su di lei negli ultimi anni Insomma ancora una volta una prova un po' opaca per Marta Bassino Poi chiaramente ancora non c'è materiale per sparare sentenze ma ci sono soltanto remote indicazioni Siamo alla prima gara della stagione e la stagione appunto arriva fino a marzo Quindi davvero ancora sono soltanto indicazioni, percezioni quelle che abbiamo avuto dal primo Swalom gigante di Solden Però insomma queste indicazioni già ci fanno vedere che quest'anno magari appunto sua maestra potrà essere in difficoltà E chissà che davvero questa Alice Robinson non possa definitivamente sbocciare e germogliare in quest'annata Fatemi sapere invece voi nei commenti che cosa vi pensate Domani lo Swalom gigante maschile ad inaugurare la stagione Ricordiamo non c'è più Marcel Hirscher Causa ritiro e quindi anche la bagarre sarà diversa perché c'è Christofferson e c'è il Panturio Che sono un pochino determinati a prendere in mano questa eredità che il grande campione austriaco ha lasciato E sicuramente darà anche maggiore incertezza perché prima dominava spesso e volentieri Marcel Hirscher Stavolta ci sarà tanta 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 incertezza in più tanti punti di domanda a cui domani verrà data una prima risposta Saranno indicazioni però insomma vedremo la gara senza Hirscher dopo un decennio intero Quasi un decennio praticamente perché ha dominato per 7-8 anni consecutivi Quindi vedremo la prima gara di gigante senza lo spauracchio La grande presenza anche ingombrante se vogliamo per gli avversari di Marcel Hirscher Fatemi sapere voi nei commenti appunto cosa ne pensate Ci sono stato anche se mi piace il video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Io torno a guardare berrettini e arrivederci la prossima video